Mario, quando quello là ha chiesto se aspettava un bambino, perché ti sei arrabbiato? Non lo so. E se... se dovesse succedere, ti dispiacerebbe molto? Ma... cosa vuoi che ti risponda? Non ci ho pensato, ci penserò. Ma noi dobbiamo essere come marito e moglie, no? A proposito, hai parlato con tua madre? No. Perché? Hai paura di complicazioni? No, dirà qualcosa così soltanto per la forma, ma sarà ben contenta che me ne vada. E tu? Hai già parlato con tua moglie? Non ancora. Appena pronta la nuova casa, le dico tutto. Più si fa d'improvviso, è meglio è. Più si fa d'improvviso. Più si fa d'improvviso. Grazie a tutti.